Musica Musica Vamonos rapidamente al ritmo De la Musica Cumbia para ti Bailamos Esa es la mejor de la Musica Cumbia A cargo del equipo de Sonido Caminero Bienvenidos El sistema se llama Bienes y Tebas Para los hermanos Pérez esta noche Hoy no has Vamos a bailar señores esta noche Música 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Viene, che si ti affa Viene, che si ti affa Viene, che si ti affa Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. che... che... a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti